Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 23 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli. Luna chiacchierona sopra il vostro tetto. Splendida questa prima luna in gemelli di gennaio fissata in verticale proprio sopra casa vostra, appena tiranneggiata da Venere che dal segno opposto un po' le sorride, un po' la beffeggia, gareggiando sul titolo di Miss Universo 2024. Grazie alla sua energia potrete realizzare meraviglie, capolavori di diplomazia intuito, soluzioni intelligenti a malintesi in coppia, riduzione dello spreco. Dolcissime effusioni col partner, ma se siete ancora a caccia, temporaneamente spaiati, le affettuosità oggi le ricevete dal vostro micio, che quando vi sente in malinconiti vi regala ore diffusa. Fortuna in amore, amori fortunati, conoscenze nuove, amicizie, incontri importanti, felicità ma soprattutto casi fortuiti con cui si manifesterà l'amore. Momento opportuno per iniziare progetti e concretizzarli nel breve, soddisfazione nei partner, gioie inaspettate. Vantaggi economici e fortunati aiuteranno la coppia. Alcuni potrebbero essere chiamati oggi a uno straordinario di pazienza, in amore e soprattutto ascoltate sempre con attenzione il vostro partner e non prendete decisioni di impulso e in consulte. Ascoltare, oggi, è meglio che reagire. Oggi potrete fare, grazie a una splendida luna nel vostro cielo, con velocità tutto ciò che vi eravate riproposti. Sarete molto concreti e potereste ottenere molto più di quello che vi siete prefissati. Errare è umano, perseverare è diabolico. Non potete sempre perdonare il partner facendogliele passare tutte. Giornata ideale per incontri interessanti, ad approfittarne saranno soprattutto i nati di domenica. Nuove amicizie sui social network. Lasciate stare i pregiudizi che vi siete fatti su alcune persone, in particolare su una che, a modo suo, vi vuole bene. Non è con il muro contro muro che vincerete la vostra piccola battaglia quotidiana. Se non avete dimestichezza con un oggetto nuovo che avete comprato, provate a leggere meglio il manuale di istruzioni e scoprirete tante cose. Possibili problemi legali o burocratici. Cerca di non spendere troppo. Gli acquisti che farai oggi non ti soddisferanno. Noie con bambini anche di. Vicini o conoscenti. Oggi si tratterà di decidere se concedere un'altra occasione a una persona che siete stati costretti ad allontanare. In fondo ha occupato un discreto posto nel vostro cuore e. Le persone, talvolta, possono cambiare. Il problema che anche la vostra situazione è mutata e può non convenire concedere un'altra chance. Ottime opportunità per cambiare casa o acquistarne una, e non dovete essere necessariamente architetti o progettisti per progettare casa vostra così come l'avete sempre desiderata. Giornata di fine gennaio che presenta la luna nel vostro segno e vi fa teneri e gentili. Occorre, però per via di Saturno, Nettuno e ancora Venere contrari, oggi non fare passi falsi in nessun campo e cercare di trovare sempre mediazioni intelligenti, come solo voi sapete fare, di fronte a qualsiasi problema e quesito vi si presenti. Plutone e il sole nel segno dell'acquario, vi portano un ampliamento di possibilità di azione sotto vari e diversi punti di vista. Molto favorita la vita sociale e mondana, che si riempie di personaggi nuovi, simpatici se crescete bimbi piccoli ricevete soddisfazioni dai loro capricci, dalle loro moine, dalle manifestazioni di precoce intelligenza che vi dimostreranno. Tutto questo in special modo se nascete nel mese di maggio. Luna protagonista, dinamica, spigliata, simpaticissima nel vostro segno. Contro di lei e di voi, però, remano Venere all'opposizione e Nettuno allo Zenit in quadratura. Sul lavoro e a scuola avete idee confuse, ma inutile aspettare che siano gli altri a darvi la soluzione offrendovi la chiave di volta, dovete arrivarci da soli, le doti mentali di sicuro non vi mancano, siete i cervelloni dello zodiaco, con un unico peccatuccio da espiare, troppo disinvolti e giocherelloni non prendete l'amore sul serio, ecco perché il partner ci soffre, al punto che avanti di questo passo potrebbe decidere di piantarvi in asso, correndo subito ai ripari. Amore ed Eros. Se il partner vi chiede ragioni di un vostro strano atteggiamento, non c'è motivo di nascondersi dietro una bugia, la spiegazione è sufficiente per chiarire ogni dubbio, facendolo esplodere in una risata. Rivali inesistenti se non nell'immaginario. Belle notizie e parole dolci da una persona cara e lontana, se vi manca come affermate datevi da fare per incontrarla al più presto. Non esitate e non vi lasciate condizionare dalla timidezza, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade gemellina. Se avete un nuovo sentimento per una persona che vi sembra non vi abbia notato, vi sbagliate. Questa persona è solo in attesa di una vostra mossa significativa, sappiate inviargliela. Lavoro e denaro. Seretà e impegno indispensabili sul lavoro, avete talento da vendere, ma comportandovi così impedite agli altri di avvedersene, vi fate trattare da adolescenti, quando invece avreste moltissimo da insegnare. Interlocutore corretto e senza secondi fini, non occorre sfoderare il piano alternativo né condirlo con qualche piccola bugia, all'onestà bisogna rispondere con altrettanta trasparenza. Il vostro capo mostra di essere molto contento di quel che siete riusciti a realizzare. La vostra abilità, la vostra competenza, il vostro trattare con i colleghi sono davvero impareggiabili. Benessere. Forma fisica in perfetto equilibrio ma a occhio agli sgarri, il fegato non sopporta sovraccarichi. Piano coi fritti e i superalcolici, anche la linea ve ne sarà grata. Denaro. Potete oggi pensare di mettere da parte i vostri risparmi e, se eravate in procinto di farlo da tempo, i passaggi planetari vi assecondano. I più baciati dalla buona sorte sono però i gemelli che festeggiano il compleanno dal 21 al 25 maggio. Per lei, complimentoni per la dialettica, anche senza una preparazione eccellente a un esame o a un colloquio fate un figurone, attrici consumate, abili a giocare con le apparenze. Per lui, inutile citare passi di romanzi o piecce teatrali per dissimulare i vostri sentimenti, siete gelosi, perfino nell'innoco collega della vostra lei vedete un terribile rivale. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.